Dicevamo dell'invito al voto che viene anche dal Vice Presidente del Comites Alessandro Amadei per esercitare, dice, un diritto che è anche un dovere civico, tornando a richiamare l'importanza del raggiungimento del quorum del 35%. Quella di domenica, dice, sarà un appuntamento storico per la democrazia del nostro Paese perché per la prima volta saranno chiamati alle urne anche cittadini stranieri residenti da almeno dieci anni.